Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita quantomeno imprevedibile. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Cristiano Ronaldo! Fantastico gol! Un gol incredibile! Che gol fantastico!